oggi mini e no tour presso cantina che stanno a un tiro di schioppo la costa triatica qui per esempio sto presso cantina di ruscio che sta in località campofilone provincia scolibiceno però proprio al confine con la provincia di fermo è a circa 5 6 chilometri 5 chilometri dalla costa triatica questa azienda grande questa nuova cantina fu inaugurata nel 2015 mi sembra ma c'è una tradizione questo fu fondata negli anni 50 il fondatore fu Dante di Ruscio poi il figlio Mario adesso ci stanno i figli la terza generazione a gestire l'azienda l'azienda grande lavora a conto terza quindi un caso un po sui generis diciamo però adesso io qui vado ad acquistare qualche bottiglia che mi piaciuta sia per valori organolettici che per qualità prezzo che non guasta voglio dire eccoci qui adesso facciamo una scelta questa è la zona del vino sfuso però adesso devo prendere qualche bottiglia fonte bucciano in purezza e valerio pecorino no ah sì valerio pecorino a tutti si mes冷abida a tutti i spetti avevano zodiacmenina eccoci di domani eccoci di domani eccoci di domani eccoci qualcosa di recuperare